Buon pomeriggio e ben trovati con noi a Caserta Sera Stadio, lo spazio dedicato al dopo partita. Ascoltiamo la sigla, ci ritroviamo subito dopo. Dopo la bella vittoria del derby scorso contro il Desisto, la capolista capriatese viene fermata in casa sul risultato di 2-2 da una buona organizzazione di gioco del Castel di Sangro. Ai nostri microfoni rispettivamente Mr. Varallo e Mr. Marcaccio. 2-2 che probabilmente accontenta entrambi le parti? Forse diciamo che accontenta più noi perché pareggiare qua con la prima in classifica non è da tutti. No, ma io oggi ho visto invece un Castel di Sangro molto molto più equilibrato e che non ha subito la scossa di subire il gol ma l'è andato subito a riprendere. Sì, questo è vero, anche se stavamo in emergenza in quanto avevamo la panchina contata con tre infortunati in panchina e 4-5 uomini mancanti. Perciò avevamo paura proprio di questo, cioè eravamo noi che stavamo troppo in emergenza. Però ripeto, io ho visto un sostanziale equilibrio, forse un po' di possesso palle in più da parte della capriatese ma una squadra, un Castel di Sangro molto molto ordinato. Sì, bello, infatti siamo riusciti tutte e due le volte a pareggiare anche se abbiamo regalato due gol con due sbagli difensivi, però questo ci fa onore. La prossima domenica? La prossima domenica abbiamo in casa la, mi sembra il, non mi ricordo bene, Rufrae che diciamo è ultimo in classifica, perciò penso dovremo, non diciamo due niente però dovrebbe andare bene. Allora mister, un 2-2 che come abbiamo sentito prima all'allenatore del Castel di Sangro accontenta tanto l'oro e va a voi invece? Noi forse un po' l'amore in bocca perché per le varie occasioni che abbiamo sciupato, limbide, limbidissime, non abbiamo saputo chiudere la partita nel momento in cui doveva essere chiusa. Ma purtroppo paghiamo anche lo scotto del derby di domenica scorsa in cui abbiamo dato il 100% e quindi forse eravamo ancora con la mentalità, con il pensiero a domenica scorsa. Comunque sono contento della prestazione dei ragazzi, qualche errore in difesa, le uniche forse due palle e gol a parte la traversa del Castel di Sangro non hanno creato niente, quindi la partita poteva tranquillamente finire sul 3-1. Però merito all'oro che ci hanno creduto fino alla fine e purtroppo ci sta un po' stretto il pareggio oggi, comunque va bene, non si può sempre vincere nel calcio, è così qualche volta. La prossima partita? La prossima andiamo a Sporting la Pietra, Pietraverano, una squadra di tutto rispetto, pure perché io con i ragazzi non tralasciamo niente praticamente. Calcoliamo la classifica e non la vediamo proprio, andiamo a giocare domenica per domenica e quello che il campo ci dà ci prendiamo praticamente. E a proposito di classifica, ve lo potevate mai immaginare una classifica così corta con tante squadre lì nelle prime posizioni che domenica dopo domenica lottano per scavalcarsi? Ma devo essere sincero, io ho giocato diversi campionati, 30 circa tra eccellenza, promozione, prima categoria. Posso dire una cosa, quest'anno da allenatore ho visto un campionato abbastanza equilibrato, con molte squadre preparate, forse è un buon campionato di promozione questo quest'anno. Niente, sì, ci sono delle squadre attrezzatissime, proprio per quello noi ce la dobbiamo giocare domenica dopo domenica, perché secondo me non esiste un'ultima della classe di una prima. Le partite vanno giocate, vanno affrontate tutto allo stesso modo, quindi credo che questo sia il programma da seguire. Poi questa squadra è nata per divertirsi, per cercare di arrivare almeno in playoff, un campionato dignitoso, invece stiamo facendo gli straordinari. Questi sono bravi ragazzi perché lavorano seriamente, ci alleniamo a 20 persone, 22 persone ogni settimana, ci sono da mettere due o tre persone in tribuna. Questa è una famiglia, questo è il vero senso di questa squadra, è un gruppo formidabile, questi sono i risultati. Bene, dallo Stadio Comunale di Capriate al Volturno è tutto. Noi vi aspettiamo alla prossima. Sigla!